Abbiamo fatto un documento i sindaci di Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni, Fossacesia e Torino di Sangro chiedendo alla regione i finanziamenti necessari per rendere più sicure le spiagge libere dove ovviamente i nostri bagnanti vanno gratuitamente. Tra l'altro Fossacesia conta una presenza notevole di turisti aquilani che ogni anno vengono perché ritengono che la costa dei Trabocchi sia un punto di riferimento importante per le loro vacanze. Come sindaci abbiamo chiesto questo contributo perché altrimenti dovremmo limitarci solamente a mettere i cartelli sui quali raccomanderemo ai turisti e ai bagnanti di rispettare le regole previste dalla legge dello Stato e anche dalle norme contenute nell'ordinanza del Presidente della Regione, numero 69, l'ordinanza che è stata emessa il 29 maggio. Cosa dobbiamo fare perché ci sia più sicurezza? Dobbiamo dire ai cittadini che sono vietati gli assembramenti, che bisogna stare uno distante dall'altro di un metro e dobbiamo anche garantire la sicurezza per i bagnanti. Chi va al mare deve trovare anche il bagnino. Tutto questo significa che senza contributi i comuni sono messi in serio pericolo. Cioè dovremmo trovare soldi che già insufficienti utilizziamo per il sociale, per la scuola, per l'ambiente, per i rifiuti e destinarli alla sicurezza in questo periodo di emergenza delle spiagge libere. Dopodiché nei prossimi mesi, assieme agli altri sindaci della costa dei Trabocchi, vorremmo promuovere meglio la nostra località. Fossacesia ha due requisiti, come ogni anno. Siamo alla diciannovesima edizione della Bandiera Blu e conseguire la Bandiera Blu è raggiungere dei risultati importanti e garantire servizi efficienti, oltre al mare che è classificato ottimo. Il mare viene classificato ottimo con i prelievi che vengono effettuati dall'Arta e che poi vengono pubblicati dalla Regione e dal Ministero della Salute. Ecco, partiamo con l'estate 2020. Auguro a chi viene a Fossacesia di soggiornare nel migliore modo possibile, in sicurezza e soprattutto di valutare la qualità delle acque e la qualità dei nostri servizi.